è avviata per cui come al solito vi dico che potete fare le domande le fate nella chat questa è l'ultima ma non sarà poi l'ultima è l'ultima di questo percorso io direi che siamo in super orario potremmo anche cominciare così lascio la parola alla dottoressa Gasparotto che si presenta e vi dice cosa fai e che cosa vi racconta oggi e poi io vi faccio una piccola chiusura così ricordo una serie di cose ma lo farò dopo come al solito io ringrazio sempre il Fresco Parkinson e l'istituto di questa grande collaborazione e opportunità perché io sto imparando un sacco di cose benissimo buonasera a tutti ringrazio anche io il Fresco Parkinson Institute nella persona del avvocato fresco del direttore e tutta la fondazione per questa bellissima opportunità sono l'assistente sociale Gasparotto Alice della casa di cura riabilitativa intensiva Villa Margherita di Arcugnano a Vicenza ok vi do il benvenuto partirei con le slide perché appunto il contenuto è abbastanza diciamo così fitto però ci tengo a precisare che è uno spazio tutto vostro proprio come vedete anche dal titolo della mia presentazione cosa chiedere all'assistente sociale quindi se avete domande se avete bisogno di sfogare qualche pensiero qualche dubbio potete tranquillamente scrivermi perché è uno spazio veramente dedicato a voi ok Giuseppe possiamo passare alle slide successive ok allora mi sono interrogata molto su questa domandina perché appunto i dubbi a volte sono tanti sono diversi e sono soprattutto personalizzati in base al problema di ognuno per cui cercherò un attimino di fare una spiegazione della figura dell'assistente sociale e nello specifico cosa fa in una struttura riabilitativa poi vedrete un pochino cosa ho preparato per voi mi scusi solo un attimo Giuseppe non vedo che è partita la registrazione io vedo che sta registrando non lo vedo io Barbara perché sto condividendo ah ok scusami a posto a posto allora il ruolo dell'assistente sociale allora quando parliamo di servizio sociale quindi del servizio dell'assistente sociale si fa riferimento ad interventi di aiuto tecnico professionale ovvero l'assistente sociale è un professionista ordinato dallo Stato che ha come obiettivo l'assistenza sociale alla persona alla famiglia ai gruppi e alla comunità questo significa che è una prestazione un servizio che voi quasi sempre troverete gratuitamente a meno che non andiate in cerca di un assistente sociale in libera professione e quindi stipuliate un contratto con questa persona possiamo andare avanti il servizio sociale è nato in Italia quindi a livello formale negli anni del dopoguerra proprio in coincidenza con la costituzione italiana allora il motivo era principalmente fare fronte alla situazione di enorme degrado sociale ed economico nel paese per lunghi anni però questa professione ha operato senza un riconoscimento giuridico ma semplicemente riconosciuta dalla società allora arriviamo agli anni 80 dove viene definito il profilo professionale cominciano ad emergere le prime scuole sedi di formazione quindi corsi di laurea mentre prima erano semplicemente delle scuole speciali per assistenti sociali e quindi in seguito alla laurea c'è stata anche nel 93 quindi ben dopo la possibilità di istituire un albo professionale quindi iscriversi all'albo dopo un esame di stato per cui se voi avete a che fare con un assistente sociale e cercate per esempio nell'albo online degli assistenti sociali troverete che questa digitando nome e cognome è iscritta all'albo professionale allora entriamo un po' nello specifico l'assistente sociale ha mansioni principalmente di segretariato sociale che significa orientamento informazione alla persona e alla famiglia generalmente questo tipo di mansione viene svolta a livello di ente locale quindi comune la troviamo in realtà poi anche in ogni servizio perché ogni assistente sociale se avete bisogno di orientarvi un attimino sui servizi del territorio dovrebbe essere in grado di aiutarvi nelle procedure che servono per arrivare ad avere un risultato un obiettivo in quel campo altra azione che viene svolta è quella di filtro perché può succedere che voi rivolgiate una domanda ad un assistente sociale di un servizio ma che la risposta a quella domanda non sia in grado di darvela proprio quel servizio pertanto vi invierà a servizi specifici appartenenti a quel territorio quello che mi appartiene maggiormente è proprio l'accoglienza e il supporto accompagnamento della persona e della sua famiglia perché quando una persona accede alla nostra struttura può essermi segnalato un caso quindi posso incontrare a colloquio il paziente e la sua famiglia e supportarlo in alcune pratiche in alcune valutazioni negli obiettivi che intende raggiungere spesso si condividono gli obiettivi e c'è un supporto da parte dell'assistente sociale e dello psicologo quando ci sono delle situazioni per esempio di fragilità la valutazione sociale viene fatta appunto tramite gli strumenti dell'assistente sociale quindi viene riportata una situazione di difficoltà un problema un bisogno o anche più bisogni si va a definire a volte singolarmente anche insieme assistente sociale e utente con i familiari quelli che sono i bisogni e quelle che sono le risorse quindi c'è proprio un'analisi della situazione per poter far fronte con un intervento partecipato questo per raggiungere una soluzione condivisa se io non parto dal vero bisogno rischierò di dare una risposta sbagliata a quel bisogno che mi viene riportato quindi questa è una fase molto delicata la fase iniziale del percorso perché si deve andare a centrare bene l'obiettivo a livello di struttura riabilitativa l'assistente sociale partecipa alle riunioni di progetto sono delle riunioni di verifica quindi quando viene inserito un paziente si conosce inizialmente per qualche giorno uno o due giorni massimo e si dà luogo alla riunione di progetto iniziale quella intermedia viene a metà percorso e ovviamente quella finale va a vedere se gli obiettivi hanno dato i risultati attesi in quella intermedia si possono rivedere anche gli obiettivi che c'eravamo posti allora nell'ottica no chiedo scusa Giuseppe nell'ottica della continuità assistenziale l'assistente sociale stila dei progetti personalizzati quindi in rete con gli altri servizi tiene presente il focus quindi l'obiettivo del progetto e fa quasi come dire da case manager quindi riesce ad organizzare un progetto che possa accompagnare la persona anche nel dopo ricovero ovviamente è fondamentale questa parte di mantenere i contatti con i servizi e viene proprio assoggettata all'assistente sociale quindi la troverete spesso al telefono o nell'invio di qualche email pertanto mi si rivolge spesso la domanda ma come mai voi assistenti sociali non vi si trova mai siamo spesso impegnate al telefono proprio perché abbiamo necessità di sentire i servizi più e più volte per ogni persona la gestione delle situazioni conflittuali è una mansione che di solito viene svolta assieme allo psicologo l'ho inserita perché spesso ci troviamo a fare da tramite proprio per arrivare a una soluzione condivisa fra paziente e familiari oppure fra un familiare e l'altro spesso non si riesce a decidere se riportare a casa il paziente o inserirlo in struttura perché ovviamente emotivamente ci sono tanti aspetti e sono molto soggettivi ogni membro familiare ha il suo ruolo e ha il suo il suo come si può dire emotivamente il suo coinvolgimento emotivo rispetto a quel paziente per cui si lavora tutti insieme per riuscire ad avere un progetto che sia condiviso con tutti gli utenti e gli attori succede a volte anche nel ricovero riabilitativo che proprio perché l'assistente sociale lavora instaurando un rapporto di fiducia col paziente ma soprattutto con i familiari che poi sono quelli che si riprendono in carico questo paziente a domicilio per esempio succede che ci sia anche una mansione di intermediazione perché si instaura questo rapporto di fiducia e spesso mi vengono dette delle informazioni dette delle cose che non si riesce a dire direttamente al medico o alle figure preposte pertanto l'assistente sociale fa anche un lavoro di empowerment col paziente o col familiare e quindi ridà forza diciamo a quella voce che vorrebbe chiedere riesce a fare magari a volte da tramite per appianare anche una situazione magari di tensione ok quindi è una figura che può sembrare marginale ma spesso fa anche da legame fra altre figure e la famiglia ecco una mansione diciamo un obiettivo che ho molto a cuore come assistente sociale è la tutela della persona fragile perché ci troviamo a lavorare con persone che nonostante abbiano magari bene in mente il loro obiettivo fanno fatica ad esprimerlo oppure bisogna un po' leggere fra le righe riuscendo a capire quale è veramente il focus e qual è il senso per lui di quel ricovero ok possiamo andare avanti dottoressa la fermo un attimo perché mi chiedevano io penso di sì però volevo conferma da lei se la figura dell'assistente sociale c'è anche in alto adige io penso che la figura dell'assistente sociale è assolutamente sì assolutamente sì perché a livello nazionale fa parte dei LEA il Trentino Alto Adige è una regione autonoma ma è ben strutturata assolutamente come servizi alla persona per cui sicuramente se vi mettete alla ricerca la trovate anzi spesso trovate anche delle bravissime assistenti sociali che lavorano proprio nel privato o lavorano in libera professione quindi qualora aveste un obiettivo particolare come può essere un avvio di una procedura particolare o anche solo una consulenza sociale potete cercarla sia a livello pubblico ma anche a livello privato grazie prego allora il processo d'aiuto processo tipico dell'assistente sociale è un percorso professionale e programmato quindi non è nulla lasciato al caso e quindi parte da un bisogno uno o più bisogni quindi il bisogno che è una situazione globale della persona consideriamo che la persona ha un passato quindi ha una storia ed ha un futuro ok quindi è fondamentale considerare proprio il contesto socio-ambientale familiare di quella persona per definire bene quel bisogno andiamo avanti altra passaggio fondamentale non è solo individuare il bisogno ma è anche dare rilievo alle risorse perché sono fondamentali nella risoluzione di quel problema quindi uno dei nostri compiti è andare a vedere a scavare quelle che sono le risorse della persona del suo ambiente di vita e assolutamente anche della famiglia quindi riusciamo a fronteggiare il problema partendo da questo ok dopodiché si aggiungono le risorse quelle potenziabili quelle attivabili ma anche quelle che eventualmente può dare un ente o può dare la società si lavora per progetti individuali o collettivi e quindi soltanto questo diciamo così può garantire risultati efficaci proprio perché è un progetto a tavolino si dà dei tempi si dà degli obiettivi e vengono definiti con l'utente e la sua famiglia avanti allora io quello che reputo fondamentale è proprio il gruppo multidisciplinare l'avete anche un po' conosciuto nelle precedenti nel precedenti corsi nelle precedenti sedute diciamo il mio gruppo è veramente la mia forza perché soltanto col confronto col mio gruppo io riesco veramente ad avere dei risultati con le famiglie e le famiglie questo lo vedono se c'è un gruppo coeso che lavora bene che si parla purtroppo a volte come vi spiegavo prima non è sempre diciamo possibile avere un confronto in tempo reale quindi succede che passino dei giorni ma noi cerchiamo sempre di fare in modo di trovare un mezzo dove possa passare l'informazione fondamentale e quindi tutto il gruppo va a lavorare su quell'obiettivo su quella caratteristica ovviamente rispettando il segreto professionale perché vengo a conoscenza di dettagli davvero specifici e davvero intimi quindi ho il segreto professionale ma ci sono delle situazioni che con il consenso della persona e della famiglia riesco a condividere con il gruppo e questo aiuterà sicuramente il risultato allora vi presento il mio team appunto avrete conosciuto un po' di collaboratori il coordinatore dei riabilitatori sicuramente la fisioterapista la logopedista sottolineo l'importanza del terapista occupazionale che effettivamente fa la differenza e l'avete forse anche già scoperto va a lavorare proprio diciamo così sul campo quindi ricrea delle situazioni che davvero possono essere assimilabili al domicilio mi aiuta tantissimo perché vedo veramente la possibilità di riportare la situazione anche nel territorio quindi tante nozioni che io imparo dai miei colleghi e tanti consigli nel momento in cui vado a parlare con gli assistenti sociali del territorio posso condividerli e si crea un sapere condiviso utilissimo per la persona che poi rientrerà a casa e per la continuità assistenziale verrà preso in carico dal servizio territoriale che ha anche imparato delle cose dal nostro percorso riabilitativo allora la fiducia del paziente io ho messo questa questa slide perché per l'assistente sociale è fondamentale che il paziente si fidi di noi si fidi di me oltre alla fiducia aggiungerei la volontà di cambiare la volontà di farcela perché nel progetto riabilitativo questo è il primo requisito fondamentale se non c'è la volontà sia nel progetto riabilitativo che in quello più specifico quindi sociale non si riesce ad ottenere quello che si era pensato per lui quindi partiamo veramente dal rispetto dei tempi della persona per arrivare ad avere prima un rapporto di fiducia e poi una condivisione di tutto quello che è il progetto sociale di reinserimento sociale diamo molta importanza però noi assistenti sociali anche ai familiari anzi vi dirò di più che spesso la maggior parte dei contatti dei colloqui si hanno proprio con i familiari perché per noi il supporto sociale è proprio di quella rete che poi a casa dovrà gestire il paziente dovrà riaccoglierlo mi vengono in mente dei casi molto belli di collaborazione con le famiglie dove si è creato un rapporto talmente di fiducia che per esempio in questa emergenza di coronavirus abbiamo fatto delle videochiamate nel momento in cui la persona il paziente è stato male e purtroppo è stato portato in ospedale abbiamo sentito per esempio la moglie che era abbastanza in burnout quando è arrivata era veramente in difficoltà e abbiamo chiesto di salutarci il paziente e lei ci ha detto mi raccomando mi saluti la dottoressa Gasparotto che ormai fa parte della nostra famiglia per me è stato veramente un gran successo perché in questa difficoltà legata all'emergenza abbiamo creato delle videochiamate ho avuto la possibilità di entrare un po' in quella famiglia diciamo e ci si sente veramente di condividere un pezzo di fatica quindi la fiducia nei nostri confronti aiuta sicuramente il risultato abbiamo condiviso una serie di obiettivi e finalmente è andata in porto quello che la famiglia si era predisposta già prima allora ecco un tema che a me sta a cuore appunto è la tutela di questa persona fragile vi spiegherò a grandi linee gli istituti di protezione giuridica nello Stato italiano e anche perché vorrei dare un taglio attuale a quella che è appunto la protezione della persona fragile ci sono delle leggi nuove relativamente nuove e vorrei un po' spiegarvele allora gli istituti di protezione giuridica sono tre abbiamo l'interdizione con la nomina quindi di un tutore l'inabilitazione dove viene nominato un curatore e l'amministrazione di sostegno i due interdizione e inabilitazione fortunatamente non esistono quasi più e poi vi dico vedrete anche perché andiamo avanti allora nel nostro ordinamento la persona che diventa maggiorenne è considerata capace di agire quindi compiere degli atti giuridici validi se dalla nascita c'è una capacità giuridica dalla maggiore età soltanto dalla maggiore età si può diventare si diventa capace di agire oltre che capace di intendere e di volere ma questo è un altro concetto possiamo andare avanti l'interdizione se vedete in alto a destra ho inserito proprio la manina dello stop e un muro proprio per farvi capire che questa viene anche detta la morte civile del cittadino quando una persona è in abituale infermità di mente e che questo lo rende incapace di provvedere ai propri interessi il giudice ha la possibilità di nominare un tutore legale e di interdire quindi la persona questa procedura si attiva tramite il tribunale ordinario e il giudice emette proprio una sentenza l'obiettivo di questa interdizione è principalmente assicurare la protezione di quella persona possiamo andare avanti nella nomina del tutore come vi dicevo c'è proprio una sentenza e il tutore si sostituisce in tutto e per tutto a quella persona quindi va a gestire il patrimonio e va a gestire gli interessi di vita quindi anche le scelte relativamente al suo stato di salute e tutta una serie di aspetti se la persona fa mette in atto degli atti straordinari non sono considerati validi quindi possono essere nulli perché viene proprio sostituito dal tutore andiamo avanti l'inabilitazione invece l'ho rappresentata col salvadanaio proprio perché resti impresso che questo tipo di istituto quindi la curatela che con la nomina del curatore si verifica nel momento in cui una persona si espone o espone la sua famiglia a gravi pregiudizi economici quindi lo vediamo in particolare nelle persone che hanno abusi per esempio gioco d'azzardo abusi alcolici quindi gravi situazioni che espongono veramente a rischio quella famiglia o quella persona anche qui abbiamo una sentenza da parte del giudice di nomina di un curatore ok possiamo andare avanti Giuseppe il curatore praticamente si occupa della straordinaria amministrazione dei suoi atti quindi diciamo così la persona può compiere degli atti ordinari che non vadano ad intaccare però il patrimonio ok quindi senza il curatore un atto straordinario per l'inabilitato non può essere valido è annullabile allora dimentichiamo se vogliamo questi due istituti perché diamo spazio a un nuovo istituto possiamo andare avanti che è l'amministratore di sostegno perché mira a proteggere la persona che si trova nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi quindi non va ad interdire o a inabilitare la persona bensì il giudice tutelare va a nominare un supporto una persona di supporto che possa compiere gli atti sentendo quella persona e al posto di quella persona e o al posto dipende un pochino dalla situazione cognitiva di quella persona allora qui abbiamo una finestra un po' più vasta si può chiedere l'amministrazione di sostegno per disabili fisici o psichici malati gravi e terminali e quindi anche persone colpite da ictus persone anziane o anche persone che hanno semplicemente un'infermità fisica e quindi facciano fatica negli spostamenti andiamo avanti allora appunto questo questa amministrazione di sostegno è flessibile consente di adottare le misure di protezione più adatte per le esigenze di quel soggetto infatti non c'è più una sentenza come nei precedenti istituti ma c'è un decreto che come tale è sempre modificabile ed integrabile il giudice tutelare va a definire i compiti dell'amministratore di sostegno nel decreto questa può essere anche revocata quindi questa è diciamo la parte più interessante perché quando vengono meno i presupposti proprio perché era temporanea questa possibilità si può revocare questa nomina e la persona torna a occuparsi dei propri interessi andiamo avanti allora quello che il giudice generalmente preferisce è scegliere l'amministratore di sostegno nell'ambito familiare le stesse persone che propongono il ricorso all'amministratore di sostegno possono indicare uno dei familiari come possibile amministratore però quando succede che vi siano dei conflitti familiari degli interessi che non coincidono è possibile che il giudice tutelare nomini anche un soggetto esterno tenendo conto infatti dell'esclusivo interesse dell'assistito una volta che viene nominato l'amministratore di sostegno presta il suo giuramento davanti al giudice e si assume il dovere di svolgere il suo compito tenendo conto sempre delle aspirazioni e dei bisogni dell'assistito possiamo andare avanti ecco qui in questo slide ho messo un qualcosina di specifico per chi intendesse vedere un po' meglio questo istituto allora succede che entro 30 giorni dalla nomina si debba depositare in qualità di amministratore di sostegno un inventario sulla situazione patrimoniale e finanziaria del beneficiario si utilizza un apposito modulo e entro il 28 febbraio di ogni anno successivo si deve fare un rendiconto quindi si attesta la situazione complessiva dell'amministrato e tutta l'attività che si è svolta nell'anno precedente quindi è un incarico non da poco che va a testimoniare al giudice quello che si è svolto per garantire gli interessi di quella persona a rendiconto vi ho elencato un attimino quelle che sono le cose da inserire perché i documenti che servono sono per esempio le spese quindi con fatture ricevute maggiori di 500 euro quindi non le spese quelle un po' più irrisorie però dai 500 euro in su il giudice vuole vedere che cosa si è speso per quella persona e del suo patrimonio delle sue finanze gli estratti conto le ricevute delle rette dei pagamenti delle rette degli istituti di ricovero tutta una serie di documentazione certificante le condizioni socio-sanitarie di quel beneficiario quindi può succedere che anche a noi qui in ricovero riabilitativo venga chiesta da parte del medico una relazione sulle condizioni di salute perché il giudice va a supervisionare le scelte che si sono fatte per quella persona quindi l'inserimento in istituto piuttosto che il centro di urno degli istituti che abbiamo scelto per quella persona possiamo andare avanti i soggetti che fanno ricorso che possono avviare questa nomina sono il soggetto stesso anche se interdetto e inabilitato il coniuge o la persona stabilmente convivente i parenti entro il terzo il quarto grado scusate quindi fino a cugini pro zii pro nipoti gli affini che sono i parenti del marito della moglie per capirsi entro il secondo grado quindi il suocero la nuora il genero i cognati il pubblico ministero o i responsabili dei servizi sanitari e sociali allora non fanno un vero e proprio ricorso ma i responsabili i dirigenti di un servizio come per esempio il nostro può segnalare la necessità di nominare un'amministrazione di sostegno per quella persona che non è in grado di provvedere i propri interessi quindi porterà un certificato medico laddove viene descritta la situazione attuale della persona l'assistente sociale in questo ha un ruolo fondamentale perché fa da supervisore diciamo così in queste situazioni e segnala alla direzione eventuali necessità di nomina di amministratore di sostegno generalmente si può anche invece coinvolgere la famiglia nel far partire la nomina e quindi seguire dalla Z quello che è il percorso qualora non fosse possibile questo come in caso di conflitti in caso di persone che non si vogliono occupare di quella persona di quel familiare allora l'assistente sociale ha il dovere di segnalare la necessità di tutelare quella persona ok possiamo andare avanti ecco a livello sanitario nel 2018 è entrato in vigore una possibilità un diritto un'opportunità per tutelare se stessi quindi non solo qualcun altro può tutelare noi ma noi stessi possiamo in certo senso tutelare noi stessi scrivendo le nostre disposizioni anticipate di trattamento è praticamente detto anche biotestamento o testamento biologico andiamo avanti che vediamo cos'è le disposizioni anticipate di trattamento in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e soltanto dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte la legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari e quindi nonché il consenso o il rifiuto sugli accertamenti diagnostici sulle scelte terapeutiche e sui singoli trattamenti sanitari quindi questo è un argomento prettamente sanitario che però la persona che sia capace di intendere e volere e che sia maggiorenne può disporre si può disporre oggi per il futuro ok possiamo andare avanti quindi come si fanno queste dat si acquisiscono adeguate informazioni mediche infatti è molto consigliato poterle compilare con un medico di fiducia può essere il medico di base ma anche un medico che appunto di cui noi ci fidiamo si è fondamentale capire le conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o al consenso di alcuni determinati accertamenti diagnostici scelte terapeutiche e singoli trattamenti attenzione che anche la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale sono dei trattamenti sanitari quindi questa è stata una conquista degli ultimi anni dopo le varie i vari dibattiti che ci sono stati a livello etico in vari casi come Eluana Inglaro Terri Schiavo sicuramente avete presente un pochino come sono andate le cose o comunque per cosa ci si è battuti in questi anni non esistono moduli per fare queste dat se non dei modelli facsimili che io ho anche trovato e vi ho aggiunto alcuni link per poter accedere a questi moduli si stila un modello personalizzato ok possiamo andare avanti quindi nel momento in cui andiamo a redare la nostra dat possiamo o recarsi recarci dal notaio con atto pubblico o scrittura privata autenticata quindi il notaio va a verificare un po' lo stato delle cose e ovviamente queste dat vengono inserite in una banca dati nazionale oppure si può recarci più semplicemente all'ufficio di stato civile del comune di residenza con una scrittura privata quindi un foglio semplice che provvede poi l'ufficio di stato civile del comune provvede alla notazione in un apposito registro il consiglio è di portare sempre con sé queste dat nei vari ricoveri ospedalieri proprio perché orientano il medico nelle decisioni da prendere in queste situazioni particolari che vi ho nominato prima quindi trattamenti sanitari rispetto a una situazione precisa allora ci sono anche alcune strutture sanitarie competenti nelle regioni che hanno regolamentato questa raccolta delle dat e quindi basta una semplice scrittura privata per chi non fosse nella possibilità di scrivere le proprie dat è possibile videoregistrarle queste possono anche essere revocate o modificate in ogni momento e se non si ha la possibilità di farlo in forma scritta il medico può videoregistrare il paziente con due testimoni presenti presso gli uffici consulari italiani per i cittadini italiani che sono però all'estero ok allora queste dat sono esenti da ogni obbligo di registrazione imposta di bollo qualsiasi altro tributo diritto e tassa nel caso in cui appunto come vi dicevo la persona non riuscisse proprio a scriverle può essere tranquillamente videoregistrata oppure può utilizzare dei dispositivi che consentano di comunicare tramite appunto computer o altri dispositivi queste dat appunto sono rinnovabili modificabili e revocabili revocabili nei casi appunto in cui per ragioni di emergenza e urgenza impedissero di recedere di procedere alla revoca delle dat questa dichiarazione verbale raccolta è più che sufficiente diciamo che nel momento in cui facciamo le dat orientiamo il medico se arriviamo ad avere una situazione dove non riusciamo ad esprimere il nostro desiderio il nostro consenso mettiamo anche il medico in una situazione eticamente di difficoltà per cui può essere anche che il medico senta il giudice tutelare il giudice tutelare poi fa riferimento sicuramente a delle dat se sono presenti e se sono state depositate come prima cosa ok possiamo andare avanti ecco questi sono i link proprio perché abbiate la possibilità di darci un'occhiata se vi interessa al tema è un tema veramente molto delicato su cui sicuramente ognuno di noi si può interrogare tantissimo però mi premeva oggi darvi un po' questa possibilità perché non sempre se ne parla negli uffici di assistente sociale non è il primo argomento ovviamente che si va a trattare è un argomento molto delicato però è un qualcosa su cui l'assistente sociale volendo vi può anche un po' orientare insieme al medico di base chiaramente la figura preposta per compilare queste date è sempre il medico tenete in considerazione questo il medico di vostra fiducia ecco allora sì volevo esprimervi anche questa possibilità le date nel momento in cui si va a compilarle c'è la possibilità anche di mettere inserire proprio un fiduciario una persona che conosce la nostra volontà e che poi può nei casi di appunto necessità dichiarare quella che è la nostra volontà viene firmata anche da parte del fiduciario la nostra DAT e quindi viene data una copia anche al fiduciario questa slide esprime proprio il mio pensiero in merito alla protezione ovvero secondo me la protezione più forte sta proprio in chi ama quindi io mi sento protetta da chi mi ama e riesco a proteggere le persone che amo quindi il mio concetto è ok ci sono tante figure che possono girare attorno a quella persona ma la cosa più importante è che salvaguardiamo la salute di chi le cura quindi per me è fondamentale che un caregiver che un familiare sia veramente in grado di arrivare all'obiettivo per quella persona e quindi proteggerla in tutto e per tutto spesso infatti come assistente sociale mi trovo veramente a camminare passo passo con quella persona per riuscire a proteggere al meglio il proprio caro ma nella slide successiva possiamo andare avanti ho inserito anche un po questa frase ma non sempre chi ama è obiettivo perché sappiamo che quando amiamo molto siamo anche emotivamente molto attivati quindi quando si tratta di gestire le proprie cose non sempre riusciamo a fare il meglio per noi e per quella persona per cui oggi vi ho espresso questa possibilità delle dichiarazioni anticipate di trattamento proprio perché nel momento in cui siamo tranquilli stiamo bene e siamo in piena consapevolezza siamo in grado di intendere e volere possiamo salvaguardare noi e i nostri cari anche un domani ecco proprio perché non siamo sempre obiettivi finisco con questa slide che è praticamente sono i luoghi dove ci potete trovare potete trovare le assistenti sociali che hanno lo stesso vostro obiettivo che è effettivamente proteggere gli interessi di quella persona della persona fragile quindi gli enti principali dove la trovate sono i comuni le province le regioni gli enti locali ma sicuramente il più vicino è sempre il comune ogni comune ha la sua assistente sociale altri enti pubblici quindi parastatali IMS e INAIL le strutture residenziali come la nostra riabilitative semi residenziali le case di riposo i centri privati riuscirete a trovare sempre un assistente sociale che a volte si occupa di ingressi altre volte come me si occupa dell'accompagnamento della persona e del supporto sociale e della continuità assistenziale ci sono poi a livello di ULS quindi aziende sanitarie locali dei servizi specialistici quindi l'ufficio dei disabili adulti servizio di inserimento lavorativo e poi ci sono altri servizi che magari possono interessarvi un po' meno ma li ho inseriti perché così riuscite un po' ad avere la panoramica dei luoghi del servizio sociale come vi dicevo anche in libera professione e trovate anche assistenti sociali a volte a progetto quindi con dei progetti specifici magari intrapresi per esempio dai comuni ecco io vi ringrazio per l'attenzione ho inserito questa immagine della porta aperta della fondazione perché mi piaceva molto l'idea di lasciare veramente la porta aperta per chi avrà bisogno di noi ecco grazie infinite ecco io grazie io volevo invitare tutti quelli che avessero delle domande a farle in chat così le rivolgo alla dottoressa mi sto mettendo in chat dove trovate il link dove troverete tutti questi materiali vi ricordo che domani poi ci sarà anche la registrazione di questo di questo corso la password è la stessa che avete usato per accedere a questo corso oh così vi vedo perché a me piace vedervi tutti in faccia volevo Cristina avevo visto che aveva alzato la mano volevo chiederle se aveva domande da fare o se c'erano delle cose che non erano chiare Cristina mi senti? non la vedo Cristina? Cristina? ok allora intanto c'è una domanda che noi siamo il comitato italiano associazioni Parkinson e nel comitato confluiscono più associazioni dedicate al di là del progetto Wikiparki TV che è quello su cui stiamo erogando questo servizio e quindi una domanda è proprio quella ma l'assistente sociale può interagire anche con noi associazioni cioè può essere una figura che supporta il lavoro delle associazioni quello che fanno sul territorio e in che modo può interagire assolutamente sì allora a livello territoriale è fondamentale per un assistente sociale avere la panoramica delle possibilità che ci sono per poter aiutare gli utenti i nostri clienti no quindi è fondamentale sapere che ci siete cosa fate e se c'è anche la collaborazione eventualmente per un eventuale progetto quindi semplicemente una persona può avere l'obiettivo di essere inserita in queste realtà e quindi diventa veramente fondamentale per noi avere una risorsa di questo tipo conoscerla e poterci confrontare sicuramente sì quindi come può farlo semplicemente secondo me presentandosi all'assistente sociale del territorio o comunque presentando quello che fate sì assolutamente è una risorsa per noi infatti in quanto assistente sociale di una struttura riabilitativa questa per me è una grande occasione e spero ce ne siano anche altre perché conoscere veramente cosa fate e in che territori è fondamentale per indirizzare le persone bene qualcun altro vuole dire qualcosa ho visto che c'era qualcuno che ci vuole dire qualcosa gloria ringrazia credo che sia un po' anche un come diceva lei prima è anche una cosa che difficilmente magari uno ha domande che vuole così condividere con tutti noi per cui insieme al materiale avrete comunque riferimenti vi ricordo che la mail che la leggo tutte le volte anche se la sua memoria ma per non sbagliarmi che info chiocciola fresco parkinson institute potete usarla per mandare le domande ci sarà aiuca che mi le gira oppure che le gira ai vari partecipanti ai vari relatori o che in qualche modo possiamo aiutarvi se vi dobbiamo fare da tramite nei vari contatti questo questo è fondamentale io credo che sia stato un bel percorso ma questa è una domanda che faccio io faccio io a chiusura di queste giornate di questi cinque incontri perché è un po' quello che ci piacerebbe sapere nel senso che credo che anche la fresco sia sulla stessa lunghezza d'onda tanto è vero che è nata questa bella collaborazione che speriamo sia l'inizio di una serie di cose ci sono già delle altre cose che stanno bollendo in pentola e di cui poi vi daremo notizia è importante per noi sapere anche il vostro feedback quindi l'invito è scriveteci suggeriteci dite quello di cui avete bisogno perché parlare a una platea così anche disomogenea nel senso con età situazioni luoghi in cui vivete molto diversi è chiaramente non facile e a volte magari uno avrebbe piacere di sviscerare di più un argomento rispetto a un altro perché è più vicino a quello che sono le sue corde abbiamo già visto ma noi lo vediamo tutti i giorni quando eroghiamo i servizi di teleriabilitazione e non solo è chiaro che tra Parkinson giovanile Parkinsonismi Parkinson in persone più grandi tra chi vive in città tra chi vive in piccoli centri ci sono tutte esigenze diverse come per ognuno di noi peraltro poi la vita per cui saremmo veramente contenti se o alla mail che riceverete domani con tutti i link dove trovare le registrazioni materiali o alla mail di Yuka comunque di info dico di Yuka perché ormai sei tu nel riferimento di questa cosa comunque alla mail quella che avete usato per iscrivervi al corso per chiedere informazioni se ci date un feedback se ci dite ci è piaciuto avremmo voluto fare più lezioni di questo più di quest'altro è importante anche per per noi per avervi per aiutarvi per fare dei corsi sempre più finalizzati a quello che diceva la dottoressa Gasparotto Gasparotto ha una multidisciplinarietà e ha un supporto cioè l'idea è che noi ci occupiamo delle persone non delle malattie ma delle persone le cose importanti sono le persone e tutto quello che è la persona la comunità che fa parte che la comunità sia la famiglia la famiglia allargata la famiglia diversa la famiglia la comunità perché magari uno è da solo però il vicino è intervivo ha detto va bene va bene tutto noi siamo qui per portare il nostro sapere la nostra esperienza a voi quindi di contro anche per imparare dal vostro sapere dalla vostra esperienza questo era quello che mi sentivo di dire a conclusione di questo percorso che è stato molto bello soprattutto io devo ringraziare tutti i relatori perché intanto di una cosa su tutto trasmettete un amore per questo lavoro che è importante che è veramente importante che passa è passato in ogni lezione che io ho visto con relatori diversi però è veramente molto bello è passato tanta passione e tanta armonia quindi io di questo vi ringrazio però sono passate anche tante informazioni utili io credo e anche cose che uno magari non sapeva o non aveva riflettuto o magari le vedeva in un'altra maniera io direi che se apriamo tutti i microfoni così se qualcuno ha qualcosa da dire da puntualizzare lo può fare Giuseppe lo fai tu? Io buonasera dottorezza sì no io mi sono collegata tardi volevo chiedervi se si possono vedere le registrazioni perché sono una cargivera anch'io di mia madre assolutamente sì vi manderemo il link con l'accesso per vedere le registrazioni che ovviamente sono solo per voi per tutti quelli che hanno fatto questo percorso di incontri vari troverete anche il materiale va benissimo grazie dottore grazie sì approfitto Barbara scusi per chiedere credo ci siano in linea anche due assistenti sociali però va bene ecco e chiedo a loro se mi scrivono magari i loro indirizzi i loro recapiti perché la settimana prossima faremo formazione dalla settimana prossima anche per gli assistenti sociali proprio sulla malattia di Parkinson quindi anche per questo ci tengo a sentire un po' i bisogni delle persone perché affronteremo proprio questo con gli assistenti sociali a livello nazionale quindi si può iscrivere chiunque al corso assistente sociale e quindi affronteremo un po' questa questa patologia insieme e quindi vedremo un po' che cosa si può fare da assistenti sociali bene pronto? sì volevo così ringraziare di cuore così di questo di questo corso di con i vari aspetti sulla di aiuto nella malattia così non avrei mai pensato di trovare così facilmente così uno uno strumento come voi l'avete offerto con queste in questo corso di varie tematiche molto utili e aspetto sarà utile avere in mano anche lo scritto di questa relazione grazie di cuore grazie grazie a lei grazie a lei io vorrei chiedere una cosa mia madre aveva una malattia non definita siamo seguiti al centro tra le altre in realtà al centro al Nemo e al San Filippo Neri perché appunto la sua è una malattia degenerativa neuromuscolare però non è stata ben definita quindi abbiamo diciamo le due possibilità che ci sono state non so prospettate sono appunto o la SLA oppure la PSP variante parkinsonismo quindi è il motivo per cui poi ho scelto di partecipare a questi a questi incontri certo diciamo che attualmente si è un pochino più lavorato diciamo la cura è stata orientata sulla SLA e invece mi chiedevo siccome è una professione molto lenta ma poi ha 80 anni comunque mi chiedevo se appunto c'è qualche centro dove come dire possa essere valutato anche ci possono essere degli approfondimenti maggiori sul capire appunto se è una forma di parkinson o non so che cosa perché appunto ho capito che noi rientriamo con le rarità all'interno delle malattie rare i centri dove è seguita sono centri specializzati in questo sì beh sì perché comunque per i centri SLA la SLA appunto è una malattia che deve essere riconosciuta quindi ci sono dei centri ci sono dei posti appositi quasi tutti insomma ospedali pubblici dove affronti varie agevolazioni che poi vengono date quindi ci sono le strutture pubbliche che appunto certificano la malattia e ti seguono all'interno del percorso certo e quindi la sua domanda è avere la possibilità di fare più visite più come dire essere vista anche da altri neurologi sì sì però appunto che sia un qualcosa di molto specifico perché nonostante come dire un neurologo è un neurologo no? un reumatologo è un reumatologo mi sembra che si inizia a scendere nel particolare delle malattie certo certo ok allora le dico da assistente sociale fatico un po' risponderle perché non conosco personalmente tutti i centri d'Italia che si occupano di queste specifiche patologie generalmente riesce ad indirizzarla meglio il medico probabilmente o comunque sentendo qualche neurologo di fiducia che la sta vedendo finora mi viene da dire non conosco centri specifici ma perché non mi occupo di questo quindi faccio un po' faccia rispondere sì ti ti posso aiutare in questo senso credo che quello che potremmo potremmo fare è magari girare la se mi lasci la mail e così girare il tuo quesito magari uno dei neurologi che hanno fatto questo corso che ti può dare delle dritte in questo senso e l'altra cosa posso chiedere perché come comitato ci sono noi siamo venuti in contatto con ci sono delle associazioni che si occupano proprio di malattie rare e rarissime dove magari ci sono tre casi al mondo e che si muovono molto bene perché sanno come ritorna al discorso della dottoressa Gasparotti chi si occupa di questo sa come muoversi sono assolutamente d'accordo con te ma perché questo è un filone anche del comitato che non basta solo il neurologo serve il neurologo parkinsonologo se parliamo di parkinson chiaramente ma come tutti noi guarda io poi che arrivo io faccio shatsu quindi maggio arrivo da tutt'altro però chiaramente con una specifica su tutte le malattie neurologiche neurodegenerative perché chiaramente poi serve la parte esperienziale che è un po' quello il filone di questo di questo corso anche dove non è solo vi racconto che cos'è la malattia credo che chi ha o chi ha a che fare con la malattia forse lo sa meglio di chiunque altro il problema è ti faccio capire come spostarti dal letto perché magari non lo sai come farlo in sicurezza oppure ti faccio capire che c'è una figura che ti può aiutare se hai bisogno di questo quindi è proprio l'esperienza di aver visto nel corso degli anni della professione il Fresco Institute da questo punto di vista benissimo quali possono essere le esigenze e cercare di rispondere anche a domande come la tua quindi di dire nella rarità delle cose quando ci troviamo in una nicchia ancora più nicchia per usare una logica così di mercato che poco si dice ma che esprime il concetto è necessario trovare chi di quella nicchia lì se ne occupa io credo che poi mi sono venuto in mente un paio di nomi però visto che appunto io faccio schazzo al dottoressa Gasparotto non voglio ecco non voglio dirti delle cose se se hai piacere e mi scrivi anche in chat la mail io giro questa tua richiesta a chi può darti delle specifiche e delle dritte più utili sapevo immaginavo che appunto come referente di tutte queste lezioni una risposta l'avrei avuta appunto quindi magari non era specifica per l'assistente sociale mi rendo mi rendo conto però è vero anche che ecco trovarsi una persona che riesce a dare una risposta del genere e dire orientati lì è utile cioè io io come dire ho considerazione dell'assistente sociale come come persona lavoratrice a volte nella realtà questa questa che viviamo noi qui nel Lazio insomma non è molto presente devo dire che mi mi dispiace perché è sempre una figura di aiuto importante sì dovete sapere che purtroppo le assistenti sociali soprattutto nei comuni gestiscono 6.000 cittadini a testa quindi probabilmente riuscite a trovare magari risposta se siete anche voi a chiedere a volte anche più volte perché purtroppo non riusciamo a essere dappertutto quindi mai demordere e per arrivare all'obiettivo mi raccomando insistete e Teresa se vuole lasciarci la sua mail proviamo a rispondere magari ci prendiamo un po' di tempo mi confronto anch'io con dei neurologi che conosco e magari riesco a darle una risposta benissimo grazie io vi mando in chat adesso la mia mail così oltre a quella che trovate così potete se non volete scriverla adesso potete prendere nota e scrivermi voi io vi arriveranno le registrazioni e il materiale di tutto perché noi abbiamo la lista abbiamo la lista di chi si è iscritto quindi se vi siete iscritti con la vostra email poi domani come avete ricevuto il remind di questa cosa avrete anche la mail con tutto il materiale vi ho messo questo c'è un'ultima domanda sì vi manderemo allora l'assistente sociale può essere anche per caregiver badante colf residenti o devono avere la cittadinanza come funziona sì allora non è proprio pertinente diciamo al al modulo che avevo nel senso che io come struttura riabilitativa quindi assistente sociale di struttura riabilitativa vi posso dire che può essere ricoverato soltanto chi ha la residenza sì quindi che ha un tesserino sanitario valido e registrato all'anagrafe regionale però ovviamente l'assistente sociale è quella figura che si occupa di tutte le di tutte le situazioni di difficoltà nel territorio quindi quindi sicuramente se queste persone che avete nominato si presentano dall'assistente sociale un indirizzo di sicuro ve lo dà non è che come prima cosa vi chiede se avete residenza è chiaro che siamo disposte per territori e per competenze quindi sono dei requisiti fondamentali per quanto riguarda l'ottenimento di alcune prestazioni e di alcuni servizi questo sì io direi che abbiamo concluso se non ci sono altre domande siete liberi di togliervi il mutuo al microfono spero davvero che sia stato utile sono molto contenta dei dei vostri complimenti che giro e che ho sempre girato tutti i relatori noi come lato comitato italiano vi aspettiamo come al solito su wikiparki per tutto quello che è l'attività di teleriabilitazione non solo lato fresco institute vi aspettano con tutti i loro corsi che è tutto il grande lavoro che fanno in presenza faremo sicuramente prossimamente altre attività non vi abbandoneremo non andiamo in vacanza o meglio andiamo in vacanza ma non andiamo non vi abbandoniamo questo è importante per cui aspettiamo un po' i vostri feedback per magari proporvi ancora congiuntamente degli altri percorsi sempre più orientati a quello che è a quello che sono le vostre necessità io ringrazio tantissimo la dottoressa Gasparotto saluto il dottor Volpe lo ringrazio che è stato lui che ha permesso insieme a Giulio Maldaccia presidente del comitato quindi ringrazio tutte e due queste persone dalle cui menti è scaturita questa collaborazione ringrazio Juca che ha seguito anche tutti gli aspetti tecnici ringrazio Giuseppe che ha seguito l'aspetto tecnico lato lato comitato e sapete che poi io sono quasi commossa ringrazio sempre tutti voi che avete partecipato perché veramente lo dico sempre noi non ci saremmo se non ci coste voi e quindi io vi abbraccio vi auguro una buona serata e spero di esservi stati uti grazie mille grazie mille grazie arrivederci buona sera chiudi tu Giuseppe un po' dolcemente del solito chiudi con i struttori di tango e parte di abilitazione del tango oltre a farci ballare con i struttori Grazie